bentornati amici e amiche allora come entrare nel clima natalizio nel clima del natale allora ci sono molti modi per entrare nel clima ad esempio c'è battaglia a palle di neve e no ma se non c'è la neve come stiamo tutti vicino al camino ma se non ho il camino come che faccio a stare vicino al camino no c'è un modo molto speciale per entrare nel clima natalizio ossia una bella canzone di natale io ne so tantissime di canzoni di natale ad esempio so tu neve scendi ancora lenta grazie grazie oppure c'è anche o albero o albero risplendi nella notte grazie però adesso non la canto solo io ora cantiamo una bella canzone tutti insieme per entrare nel clima natalizio essere pronti al natale molto bene disco molto bene eccolo qua molto bene vai 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 per entrare in clima si può anche stare in silenzio tranquilli che pace che si respira tranquilli voi qual è la vostra canzone preferita del natale come che entrate nel clima natalizio scrivetelo nei commenti io ci entro in silenzio calma tranquillo